Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati, questa è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside, oggi siamo qui per i voti, per le pagine di Empoli Milan 1 a 3, prima di cominciare però ragazzi vi ricordo come sempre gentilmente di lasciare un like al video, iscrivervi al canale, seguirci su tutte le piattaforme e sul sito internet www.acmilaninside.com e ricordatemi di attivare la campanellina qui su Youtube. Allora ragazzi l'analisi l'abbiamo fatta ieri, abbiamo già detto che una partita tutto sommato meritata, condizionata dagli infortuni, condizionata da un eroe inaspettato, andiamo con i voti che insomma farò, non sono studiata, quindi farò come sempre mi verrebbe da dire, li faccio al momento qui con voi, motivo per cui partiamo subito data Trausano e per Ciprian voto 5,5. 5,5 perché nonostante la bella parata su Bairani nel secondo tempo, per me ha un pochettino di gol sul goal sulla punizione, perché se è vero che il posizionamento è giusto, però quando si subisce con il proprio valo insomma c'è sempre un po' di corresponsabilità, poi non mi sembrava nemmeno una traiettoria che era anche imprendibile sinceramente. Poi nel primo tempo anche quella uscita che mi ha ricordato un po' Milano-Roma sul calcio d'angolo e con la conseguenza parata, con la conseguenza parata molto fortunosa, insomma non mi ha trasmesso grande sicurezza, 5,5 per lui. Calabria, ufficialmente bisogna dargli un voto, praticamente dico che nei 30 minuti, i 39 quelli che sono stati, comunque aveva fatto efficientemente bene, appunto sì, però c'è poco altro da dire. Aveva cominciato bene con un po' di pressi in avanti recuperando buoni palloni, mi dispiace per il fortuno, speriamo non sia nulla di Chier, nulla di che. Passando a Chier, già avevo in mente il prossimo, anche lui un sito malconcio dalla trasferta in Toscana, però allora nonostante a volte la ricerca dell'anticipo venga forzata come scelta da parte sua, però è comprensibile perché se non gioca da anticipo e gli scappiamo in velocità non li riprende più. Nonostante questa scelta un po' forzata mi vede da dire che comunque la prestazione è stata buona, quindi voto 6 per lui. Passiamo al Tic Tomori, voto 7 per lui, finalmente un Tic, un Tomori, versione, mi vede da dire versione ufficiale, nel senso che è quello che abbiamo imparato a conoscere, l'abbiamo apprezzato e finalmente sembra essere tornato sui suoi livelli. Balloturè, l'eroe mi aspettava, dicevamo prima, allora devo essere sincero, anche prima del gol non mi era dispiaciuto la sua partita, sia pure nella sua scordinazione, sia pure nella sua, diciamo, è talmente difficile da trovare anche il tempo, scordinazione, sembra quasi impacciato a volte, però non l'aveva fatto male, motivo per cui la sufficienza comunque la prendeva. chiaro che con il gol, il voto aumenta, passato un bel 6 e mezzo, che insomma lì, sono contento per lui che sia arrivato il primo gol, speriamo che possa essere un episodio che blocchi la sua carriera e lo sovito. Berna si è voto 6 anche per lui, sarebbe stato 6 e mezzo se non avesse commesso l'ingenuità del pavolo dal quale scatolisce il gol del pareggio dell'Embro. Devo essere onesto, non mi sembrava neanche il gran che fa, però l'articolo l'ha fischiato e quindi risulta essere comunque, diciamo, una cosa sbagliata, un gesto sbagliato, un'azione sbagliata, motivo per cui va a inficiare sul suo voto e su una partita che comunque si aveva gestito e alla grande. Sono contento di tornare perché gli do un bel 7, non capisco sinceramente chi gli abbia dato la sufficienza a Stimizzita perché per me, oltre a essere il protagonista di quella famosa, ormai, purtroppo, rimessa laterale, sulla quale veramente si sta facendo troppo casino perché durante una partita vengono battute decine e decine di rimesse da posizioni non corrette, nel senso che vengono battute più avanti. Quindi, oltre a quello, sinceramente, mi è veramente piaciuto per palloni rubati, un bel 7, sono poi l'emozione di vederlo con la fascia, sinceramente, ora è una cosa transitore, però non vedo l'ora che diventi un gesto solito, mettiamola così, una scelta effettiva. Passiamo sulla tre quarti, sarebbe anche esso un po' lo stesso discorso di Calabria, nel senso che ha giocato poco, però ufficialmente il voto è divattato e gli do un 5,5, non per altro per il gol sbagliato davanti alla porta in maniera troppo banale, in maniera clamorosa. Dispiace per l'infortunio, probabilmente lo terrà fuori un po' di tempo. Vediamo, potrebbe anche Milano poi tornare sul mercato, vediamo un po', vediamo un po' che gli ha dato l'insufficienza, sinceramente. Cioè, è stata la parte, a parte quella con Pologna, dove fu la prima e quindi con tutte, diciamo, l'eccitazione e la curiosità di questo mondo è stata la miglior partita di De Keteler. Vi spiego brevemente perché. Perché è stato tanto al centro del gioco. Tanto, tanto, tanto. Anche il pallone che aveva avuto a Leao, che se Leao segna, risulta essere un assist per De Keteler, è geniale, anche come ha saltato l'uomo. Io non capisco chi gli abbia dato l'insufficienza, sinceramente. Per me è un buon sì. Non per il non-si-stimizzato, un buon sì, perché quasi sei più, sei in mezzo, però non capisco veramente l'insufficienza. Leao, su Leao, signori, da che punto di vista lo vogliate mettere? Quello del tifoso, quello logico, quello razionale, quello dirigenziale? Vi va data la cifra che mette. Vi va data la cifra che mette. poi vorrà essere ceduto perché le offerte sono irrinunciabili, perché tante altre cose. Però va rinnovato. Cioè, non si può perdere. Ecco, mettiamola così in maniera banale, in maniera stupida. Non si può. Non si può. Assist sul primo gol, lancio del secondo, autore del terzo. E' una costante, poi, bello da vedere giocato. Signori, pensiamoci bene. Giroud, nel primo tempo si era ostinato quasi a fare continuamente gli 1-2. Fatto sta che poi, insomma, la fatica si è vista. Sta tirando la carretta. Un sì per il compleanno e per la stima di Giroud, che comunque sia stato autore di un grande avvio di Cambrato. Il voto di Leao, non l'ho detto, ma non può essere che 7 e mezzo, anche 8. Per quanto riguarda i superentrati, allora, andiamo con il primo ad entrare, che è stato Fulic. Il Borrade si adatta a tutto, e ripeto, come ho sempre detto, non risulterà mai essere il peggioro in gamba, perché dove lo metti, metti, fa la sua sufficiente figura. Per quanto riguarda Calumi, non ha dovuto fare particolari interventi. Alla fin dei conti l'Empoli, quando sfonda, lo fa per contropiedi, dove magari potrebbe essere posizionato un po' meglio, però la sufficienza la raggiunge. Death l'ho visto poco, sinceramente. Non mi ricordo azioni particolari, forse è stato impegnato più in difesa, motivo per cui... Sì, sicuro è per lui. Nulla di che da segnalare. Normal amministrazione, mi verrà che da dire. E poi restano Diaz e Rebic. Per quanto riguarda Diaz sembrava entrato con un piglio buono, giusto, salvo poi perdersi nelle sue solite... Nei suoi poli di impappinamenti, quando si ostina troppo a tenere pallone. Sì, anche per lui la sufficienza. Mentre Rebic non era in versione irritante o ritardante. Era in versione nemmeno straripante o devastante. Ha fatto un gol da bomber. Ecco, mettiamo un aggettivo... Colante... Accentrante. Nel senso che ha accentrato le auge, ha fatto l'assist, poi... Accentrante. Un Rebic, versione accentrante. Uno che accende, perché ha accentrato i gol. Vabbè, a me è piaciuta questa definizione un po' fantasiosa. Per quanto riguarda il mister, voto 7. Perché la squadra c'era con la giusta voglia di chiudere subito la partita, che è stata chiusa un po' per reazione. I cambi li ha dovuti fare in maniera forzata, ma anche ha potuto scegliere più di dando. Quindi voto 7. Questo è quando, ragazzi, fatemi sapere qui nei commenti, ragazzi, chiaramente. Fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate, i vostri voti. Vi ricordo ancora gentilmente un like, iscrivetevi, campanellina qui e da tutte le altre parti. E il sito www.accentranteinside.com Ciao ragazzi, poi ci vediamo domani, dopodomani, perché ci vedremo spesso. Ciao ragazzi e sempre forza mille. Ciao. Ciao.